E non lo so qual è la legge che permette che io devo lasciare il bene e devo pagare i debiti. Da che parte sta la legge? Si chiede Giorgio Chipinti che una volta ricevuta l'omologa da parte del giudice per risanare i debiti dopo l'approvazione del piano di circa il 98% dei creditori non ha visto comunque arrestarsi la procedura esecutiva. Se dal tribunale non si muoverà nulla tra 15 giorni dovrà cedere la sua proprietà di 40 ettari nelle campagne di Sampieri a Scicli. Qualche novità importante si attende dalla procura di Catania che ha avvocato a sé le indagini revocando la richiesta di archiviazione del tribunale di Ragusa. L'indagine è scaturita da una denuncia fatta dal signor Giorgio Chipinti secondo cui l'asta sarebbe stata turbata. Al momento sull'aspetto penalistico della vicenda vi sono indagini in corso e non si conoscono molti elementi. Questo è quindi un altro aspetto grave della vicenda che deve essere chiarito.